Benvenuti amici in un nuovo video di anticipazioni su Terra Amara. Purtroppo nelle prossime puntate ci lascerà tragicamente Mehmet Fekeli. La morte di Fekeli non sarà per cause naturali. Volete sapere chi è il suo assassino? Per scoprirlo non vi resta che guardare il video. Sappiamo già che Mehmet Kara è determinato a vendicarsi del suo ex socio Demir Yaman che anni prima lo ha fatto precipitare nella rovina finanziaria e... Per questo mette in atto una serie di mosse subdole. Inclusa la manipolazione di Zuley Altun. Mentre la trama si sviluppa, Fekeli, astuto e sospettoso, non si fa ingannare dall'arrivo di Mehmet che invece ha già conquistato il cuore e il rispetto di tutti gli abitanti della città. E voi cosa pensate dell'affascinante Mehmet Kara? Ha conquistato anche voi? Scrivetelo nei commenti e iscrivetevi al canale. Le sue indagini svelano un intricato gioco di vendette, con Akan che, senza che Fekeli lo sappia, lo accusa dell'omicidio di suo fratello avvenuto anni prima. La verità emerge, rivelando che l'omicidio fu un tragico incidente stradale, e Akan alla fine sembra che lo vorrà risparmiare e trarlo fuori dalla sua personale vendetta. Ma il suo braccio destro, Abdul Qadir, non sembra tenere conto di quello che pensa Akan. La tensione tra Fekeli e Mehmet culmina in un drammatico epilogo. Fekeli, nella sua missione di proteggere la famiglia Yaman, si trova coinvolto in una trappola orchestrata da Abdul Qadir, il braccio destro di Akan. Fekeli, con l'intento di smascherare Mehmet Kara, si reca da Abdul Qadir con il quale avrà uno scontro fortissimo che culminerà con la minaccia di Fekeli di ucciderlo se non gli svela la verità. Abdul Qadir fornirà una versione dei fatti molto falsata all'uomo e lo convincerà che vuole aiutarlo a smascherare il finto Mehmet, chiedendogli di andare in un mulino dove avrà tante risposte. In realtà si tratta, appunto, di una trappola. Abdul Qadir attenderà Fekeli nel mulino e lo colpirà alle spalle con una siringa piena di veleno mortale, causandone così la morte improvvisa. La morte di Fekeli viene inizialmente interpretata come un infarto, dato il suo passato di problemi cardiaci. Ma il medico non sospetta il diabolico piano di Akan e Abdul Qadir. La sua morte provocherà un grosso dolore per tutta la famiglia Yaman da Zuleya a Shermin e fino a tutti gli abitanti di Cucurova. Nel frattempo, Zuleya Altun, sempre più sospettosa e determinata, inizia a nutrire dubbi sulla presunta causa naturale della morte di Fekeli, aprendo così nuovi e oscuri sviluppi nella trama. Secondo voi Zuleya riuscirà a scoprire la verità? Ditelo nei commenti e non dimenticate di iscrivervi a canale. Mentre piange per la perdita del caro Fekeli, la famiglia Yaman si trova ora a fronteggiare un pericolo ancora più insidioso e lotta per svelare la verità si intensifica, tessendo una tela intricata di suspense e tragedia. Per il momento le anticipazioni finiscono qui, ma ci vediamo presto col prossimo video. Ciao!